Ci sono voluti tempi supplementari per promuovere il Milan e la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. San Siro e i Rossoneri hanno battuto in rimonta il Genoa per 3-1. Al Maradona i viola hanno travolto il Napoli per 5-2, partita assegnata da una serie di espulsioni che hanno lasciato i padroni di casa in 9 e gli ospiti in 10. La prossima settimana gli altri incontri degli ottavi di finale. Martedì Lazio-Udinese, Juventus-San Bloria, mercoledì Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli. Giovedì si giocherà Roma-Licce. Giovedì Sassuolo-Cagliari